amici amiche di pepe hightech bentornati sul canale per un nuovo gameplay di warzone allora ragazzi voi sapete che io gioco in team non vi porto mai giocate singole perché se no sarebbe un obbrobrio in questo caso abbiamo fatto un duetto io e leone nero in questo duetto il mio contributo sarà molto 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 leggero e vi farò vedere quella che è stata la grande giocata di leone nero questo perché io un gioco con amici e quindi quando posso mostrarvi la loro bravura quello che fanno quello come contribuiscono alla riuscita dei miei video mi fa tanto piacere quindi questo gameplay è dedicato tutto a leone nero e lo potete intuire anche dal titolo e quindi ragazzi godetevi la sua giocata perché poi vedrete nel video insomma le mie sono brevi e ho commesso anche un grave errore durante la partita ve ne accorgerete subito comunque basta continuare a parlare godetevi la partita ciao ragazzi ciao ragazze mi sa che ce ne ho parecchi dietro ok ti vedo sta arrivando uno qua ping blu arancione ping blu di chi è? ah il mio è il ping blu è vicino a te allora che siamo lontani 10.000 peppe 10.000 vengo al negozio quello al centro quello al centro? si ok ci sono quasi sembra pulito vai 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 mi serve una ricognizione ok stanno qua al negozio qua eh stazione di acquisto identificata stanno là le o andiamo a vedere se riusciamo a vedere si questi stanno arrivando hanno preso una macchina al negozietto oh hai visto la macchina? si la taglia guarda se scavalca un maledetto camioncino fatto si sono lanciati non lo so hanno ripreso la macchina eccoli no se ne sono scappati oh no 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 quelli là del magazzino mi hanno atterrato porca trota stanno vicino ecco il negozio oh porca miseria guarda uno arrivano gli altri già con fantasma a te l'autoressa eh ma devo andare subito in copertura e mi devo piastrare ok dove ce ne vogliamo andare? proviamo a salire un po' sul tetto qua perché comunque anzi no nemmeno sta lì la porta centrale qua oh c'è gente qua avanti a te granata partita granata lanciata una terra morto uno mi sto piastrando mi sto piastrando mi sto piastrando dov'è l'altro? non lo so non me lo pinga questo secondo me è scappato vedi che ti dico pure secondo me no nemico in discesa me l'ha pingato aspetta eccolo eccolo vicino al lancio sta andando fermo 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 sta per di là approvvigionamento marcato lo vedi? sta qua dentro vado là una terra beppe vedi che è fare l'alto mi sto piastrando morto team magnetato si ma ci è mancato poco e mi uccide sei riuscito a craccarmi beppe andiamo a prenderci un sento altri passi sento altri passi si leone dietro il muro prendiamo un uo a b prendiamo un uo a b leone sta che ando vicino a me mi sa eccoli le vissi al lancio torniamo eh una andata al lancio a prendersi la roba eccolo sta arrivando tra poco ci troviamo a destra forse è sui tetti è sui tetti attento vediamo che sia sui tetti no è sceso è sceso è sceso dal tetto si sono riuniti oh tra poco ne vedo uno vado laggiù 44 metri sulla destra si a terra uno dove è l'altro non lo so eccolo eccolo no no per pingare mi è andata l'arma in corpo singolo era mio porco maledetto maledetto me maledetto me no erano in due uno ma ci sto da dentro un garage ori tu nel garage una roba tua ho vinto bella Peppe corri 30 secondi Peppe vola e ci provo e da guarda se mi fa prendere la cassa di corazze no no maledetto sono morto nel gas sono morto nel gas sono morto nel gas come sono morto nel gas ecco guarda 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 ok posso posso una terra là proprio sulla pista di atterraggio ce n'è uno a campo aperto l'hai visto guardalo là pure quegli altri della sua squadra ok team magnetato grande leone questo se sballa vai farmi ah come ce l'hai tu no non mi pare proprio eh devo avere pazienza e provarla a livellare ancora no ci devi fare un po' la mano quello è il primo che mi è venuto e poi c'è un altro qua aspetta che mi fanno cecchina meglio quello là sopra penso anch'io ti tolgo l'altro così non ti confondi no meglio l'altro va ancora ora eccolo eccolo eh te l'ho detto eh prova a scendere nella casetta qua vado qui questa è tutta lutata si no ho trovato un origin devo provare a farmi questi qua che salgono no 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 ho trovato le armi di uno qua un chilo settato ho trovato ottimo dove stavano dove stavano la destra beh devo vedere se passano vicino al carrello eccolo eccolo uno sono due pinga 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 qua qua uno a terra morto uno uno dietro di te leone no di nuovo il gas devo correre morto morto sto correndo a sinistra Leo ce l'abbiamo a sinistra vieni verso adesso vieni verso adesso che c'è anche il muro che ci ripara ok sto provando a venire sento ancora spari a sinistra eh se tre addosso è bassa per te ma qua c'è qui c'è equipaggiamento letale uh la sacca stanno pure le armi a terra piglia 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 ok ho preso un mp5 così posso pushare da vicino chilo ad mp5 aspetta guardo da quest'altro lato ah vero non ho il pingatore però secondo me è più bella sta partita di quella di prima sto giro mi sono messo il shkark e sto sbagliando vieni verso destra vieni vieni eh sto provando vieni verso le tende vieni verso le tende no 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 e là andiamo a campo aperto ma lancerai il pingatore per vedere un po' ma ma ora non serve niente dici ok eh ma qua siamo chiusi dentro ora ah no ce la facciamo a scavata si eh ma dai eh ma guardo da là sto guardando sto guardando se è chiuso se è chiuso il muro di cinta non dovrebbe venire nessuno da là ok oh hanno rianimato al negozio e là al centro dei container Leo hai visto? si ho visto ho visto eh ma vuoi scavalcare salendo per là sopra? si no ma ce la facciamo ce l'abbiamo a due alla sinistra andiamo nel labirinto? no vieni qua verso destra vieni 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 verso destra si vieni qua dove vuoi andare? qua dentro le case no andiamo al quel capanno di fronte è là vuoi però andare là? dove fa carichiamo le munizioni? oh è passato uno avanti a noi due forse mi ha visto non mi ha visto no non ti ha visto sono in campo aperto ce l'hai sottotiro? ah stanno là ok eh ma c'è il secondo che non vedo oh il secondo dov'è? stanno pure là eh ambio posizione ignorate eccolo oh cecchino 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 dove stai andando? sopra no sopra no no oh no oh no non salire là da dietro da dietro no da dietro era nel labirinto no è sceso da dove stavamo noi era il secondo che stava ammacchiato là sopra hai capito? grazie a tutti grazie a tutti